Bene, ragazzi, se siete d'accordo, allora io direi, non ci resta che il crimine, la serie, ciac, prima. Prima. Intendendo prima la serie. Giannini già sta addormentando. Prima e ultima. Io sono, io ho quasi. Non so che vi hai fatto caso. Sì. Che cosa stiamo per vedere? Giannini, no. Stiamo per vedere una chiacchierata con i protagonisti della serie di non ci resta che il crimine. Io non so questo, non so, non so. Prima. No, dovete rimanere qui. Prima. Allora, ragazzi, qua abbiamo girato la serie dopo aver fatto tre film insieme. E chi ce l'ha fatto fare? Esatto. Chi ce l'ha fatto fare? Chi ce l'ha fatto fare? Tu ce l'hai fatto fare tu. Ce l'ha fatto fare Sky. Sì, ma l'idea, il plot, questa cosa dei viaggi nel plot, il viaggio nel tempo, è una tua intuizione straordinaria. Se dobbiamo dirla tutta, è un'intuizione di Guaglianone, Menotti e Bassi che hanno avuto l'idea sul primo film di mescolare le imprese della banda della Maiana un pochino con Ritorno al Futuro. Sono proprio rincoglionito. Non è vero? Non è vero. Non è vero. Stai qua, non ti preoccupare. No. Che hai detto? Non lo so, cose strane. Giallini, com'è stata per te? Quattro mesi con queste persone, questi individui? Malissimo. La mattina io dicevo a lui, guarda, non tanto a lui quanto a lui, quando te vedo come al fumo all'occhio, come lo vedo dico no, ecco, ecco. Però quando non li vedevo poi, magari i giorni dove ero solo, magari con un altro attore, che lo fossero loro, mi sentivo triste. Wow, incredibile. Questa è una dichiarazione della mausa. Ti potete abbracciare in questo momento. Un abbraccio ci starebbe bene. Lo so, ma non lo faremo perché per esigenze di scena… Se non avessi l'enna del disco, mi alzerei e ti abbraccerei. E invece tu, Gimbo? Io farei soltanto la serie del crimine a oltranza. Bene, falla da solo. Grazie. No, scherzo, scherzo. No, siamo stati a parte di scherzi veramente bene. Allora, secondo me, i vantaggi di girare con amici, cioè con attori amici, sono che ci si conosce meglio, delle battute si scrivono pensando già all'attore e poi in più c'è proprio un clima speciale, particolare. Gli svantaggi sono che un po' all'amico gli concedi tutto e quindi un pochino nel ruolo di regista certe volte la disciplina che devi mantenere abitualmente su un set con gli amici è un pochino più difficile da mantenere. Ma sentiamo Morelli su questa stessa domanda. Vantaggi e svantaggi di girare con gli amici? Il vantaggio è che giri con gli amici e quindi sei felice la mattina, ti svegli e vai felice sul set. E svantaggio che gli mandi a quel paese anche pure subito, cioè mentre con un collega che non conosci bene ti tieni, questi ti fanno perdere la pazienza, li mandi a cagare in un attimo. Questo è vero. Il miglior carattere ce l'ha lui, che è il più paziente, io ho un caratteraccio e lui pure. E' napoletano il paziente. Insomma ogni mattina bisogna capire bene come sei arrivati dal giorno prima, no? Però tu sai che anche se ti ci mandi proprio all'alba, cosa che lui fa spesse volte con me, tu sai che tutto si ricompone. Con te, con tutti. Con me soprattutto. Perché mi piace, lo sai, te lo consento. E poi tutto torna invece in una grande fluidità, in un grande divertimento, a volte eccessivo. Ma tu c'hai un rapporto speciale con Gianlini? Ma io ce l'ho, no, ce l'ho con tutti e due. Con lui forse è l'attore con cui ho lavorato di più nella mia vita. Probabilmente abbiamo... Avete fatto cose memorabili insieme. La prima volta che ho visto lui non mi ha fatto grande simpatia. Però c'è una grande scaramanzia di io. Quando le cose partono così con qualcuno diventiamo fratelli, che devo essere sincero, è quello che un pochettino è diventato nel tempo futuro. Mentre credo che la sua prima volta con me me l'ha ricordata la nostra prima volta in cui ci siamo incontrati in vicenda. Io faccio riferimento a un episodio, tu a un altro. Io sono venuto a farti complimenti per uno spettacolo, io nemmeno facevo l'attore o stavo appena iniziato. Tu stavi a Napoli, al teatro Bellini. Se è la prima volta che lo incontri, sarà pure per lui la prima volta che ti incontri. No, perché sono i ricordi. No, il primo ricordo. Marco, i ricordi. Marco, il primo ricordo che ho di te è su un set del film Barbara di Angelo Orlando. Io sono entrato e ti ho trovato legato con due manette a letto, perché in quella scena tu e Mastandrea eravate legati a letto. No, eravamo sempre legati, ma è sciolti. E tu già allora ti lamentavi insultando tutti. Cioè, oh, sono tre ore che sto qua, ma mi volete le vostre manette? Guardate che fanno male. È bello sto ricordo. Perché vuol dire, ci sai, Gianlina adesso un po', diciamo, un pochino di successo l'ha avuto. Allora, no, sempre così. Sempre è stato così. E questo va... Però sempre simpaticamente, cioè non erano arrabbiature vere. Di Tognazzi mi ricordo invece che abbiamo fatto una cosa insieme in una trasmissione RAI. Di Paola Cortellesi. Di Paola Cortellesi, che era Nessun Dorma, dove tu facevi Gandalf, il mago, e io facevo il nano del signor. E tu facevi i tuoi famosi Occhi Storti che ti invito a fare... Beh, quello. L'Occhio, quello così. Perché poi non è mio, è un basta di Ugo che fece... I mostri. I mostri. Sono padre del padre. E anche... Non suo. Sì, lo so. Io invece la prima volta che ho incontratato che tutti, giustamente, ormai è lui, non me lo ricordo. Però no, davanti al ristorante di Carlo Cracco. È vero, a Milano. Sì, ce lo stavamo a mandare il ristorante di Carlo Cracco. Era notte, e lui camminava da solo, col tappotto. Eh, perché il Gialini cammina di notte da solo? Camminava da solo per Milano. Ma chi è questo signore che... E invece ero io, appunto. Ma io... Ma io... Come no? È vero? E ti ho dato un passaggio in macchina. La banda della Magliana. Allora, e poi mi avete offerto un passaggio. Sì, ti ho dato un passaggio. Gianpaolo, se tu non avessi fatto l'attore, oggi che cosa faresti? Tu pensa che io a 12 anni facevo il prestigiatore. Io facevo i giochi di... Facevo i giochi di prestigio. Ma tipo, che riuscivi a fare? Ma facevo sparire... Faccio sparire... Le auto? Le motorini? Da Napoletà. A Napoli. I portafogli, soprattutto. Allora, io sono un... Un umanista? A parte un umanista, no, sono un dislessico. Da ragazzino, però, negli anni 80, insomma, sta forma di pensiero diverso, chiamiamolo così, la dislessia, non era... non è che se ne parlava molto. Quindi sai quando i nostri genitori andavano a parlare con le storie, dicono, no, il ragazzo intelligente potrebbe fare di più, ma non si applica. Ecco, a mia madre diceva sempre, il ragazzo si applica pure, ma è completamente scegliato. Non sa che non lo sapevo. Eppure se qualcosa ti intuisce. Allora, questa cosa mi portava, no, anche difficoltà a scuola, quindi pure timidizia. Ho detto, vabbè, mo, per arrivare sempre alle ragazze, poi sempre quello è il fine, le ragazze, ho detto, mo, impara a fare i giochi di prestigio, no, quindi ho detto, così sto un po' al centro dell'attenzione, quindi facevo sparire questi fazzoletti, no, se ne se cagava nessuno uguale, è ancora peggio, peggio, perché si allontanavano proprio, questo è scemo veramente. Ecco, ci vediamo un po'. Beh, Giallini faceva la stessa cosa, però con la chitarra, un mare nero, un mare nero, un mare nero, un mare nero. Tu eri bianco e trasparente. E tu, Giallo, che cosa avresti fatto se non avresti fatto la chitarra? Lo sai, che avrei voluto. Ecco, magari sì, o suonare. Avrei voluto, ma non so. Avresti voluto, ma invece che cosa avresti fatto proprio? La batteria. Poi come sarebbe andato a finire? Se non andava bene la cosa dell'attore? Ma il muratore pure. Il piano? No, in bianchino. In bianchino. Per favore. Gimbo, e te che avresti fatto nella vita? Allora, per mia volontà avrei potuto scegliere due cose, o il ristrutturatore. Ma di cosa? Di case. Sono bravo. Ah, perciò. Di case. Il ristrutturatore di case. Perché io ho fatto tanti lavori per sistemare le cose e le ho sempre seguiti. Quindi ho imparato certe cose. Ma pensa che quanto devi essere stato pesante per quelli che lavoravano. Tu no, questa cosa si fa così. Pignolo come sei. Ma se non fai così, i lavori, come spesso succede, finiscono tre mesi dopo, era anche per cercare di arrivare. Ah, quindi sei avaro, tirchi. No, 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 è che non entri più a casa. E cioè, pensa se ti capitava a lui come in bianchino. Perfetto, sarebbe stato perfetto. Tu sei venuto in bianchino con lui che ristrutturava io. Però, aspetta, questa era un'ipotesi. Se no, probabilmente avrei fatto quello che faccio. Che faccio io? Il vino. Bravo. Avresti prodotto il vino. Avrei forse cominciato molto prima quel percorso che invece ho tirato fuori. Mi dici i nomi dei vini tuoi, quelli più... Tapioco, come se fosse Antani, Conte Mascetti, Voglia Matta e Casa Vecchia. Bellissimo. Sono i sei vini. Ma il motivo è che sembra un omaggio al film, amici miei, in realtà quei termini nascono grazie a quel vino, perché ubriachi, benvenuti De Bernardi, Ugo e Monicelli, quando dovevano scrivere cosa avrebbe detto il Conte Mascetti, bevevano il vino che faceva Ugo artigianalmente alla Tognate. E quindi parlava un po' cos'è. E quindi ha iniziato, tra via, tra via, come fu, Santani, è uscita quella roba, ha detto, allora sto vino ha avuto un ruolo fondamentale nell'invenzione dei termini, devono avere, sono... Eh, lo vede che stuzzica? Le brematura anche, allora io potrei dirle anche le due cose come fosse vice sì, d'accordo. Ma io invece no, voglio sapere tu che cosa avresti fatto. Io, certamente, per sfruttare un po' il mio fisico credo che l'aveva fatto il calciatore. Sì. Il calciatore, io... Ma il porta o come ti vedete, io... Io un centromediano metodista, alla Mariolino Corso, diciamo, cioè sapevo smestare sulle fasce e anche offendere l'avversario con dei teghe scivolari. Io stavo sulle fasce e proprio avevo finito, vanna. No, boh, penso che avrei fatto, boh, avrei fatto la carriera di mio padre, probabilmente come fanno molti che fanno il mestiere dei genitori, avrei fatto l'avvocato, forse, boh. L'avvocato. E papà era Bruno. L'avvocato Bruno. Per volontà di padre io avrei dovuto fare l'agronomo. È l'unica volta che mi disse, tu dovresti fare l'agronomo. Pensa che stima che aveva come attore di te. No, avevo 14 anni. Lo disse dopo la tua prima recita. Come egoisticamente lui voleva, se fa l'agronomo gestisce la tenuta. Allora, dalla regia mi suggeriscono una domanda, che è una classica domanda che voi odierete ascoltare, ma io ve la faccio. E cioè? Che è, secondo voi, qual è la morale di questa storia, della serie di Non ci resta che il crime? Che l'amicizia trionfa su tutto. Beh, dai, sì. Avevo struncato, ho dato la risposta a quella definitiva. L'amicizia trionfa sempre. Come i Rolling Stones. Esatto, come i Rolling Stones che non si sono mai separati, veramente. Mai. E Keith Richards diceva, gli hanno chiesto, chi è più bravo, tu o Ron Wood alla chitarra? Ron Wood dice lui, e lui ha detto, in realtà siamo due schiappe, ma di questi insieme non ci batte nessuno. Un po' come noi, un po' come noi. Un po' come noi. Claudio, Moreno, Giuseppe, nella nostra serie so così. Cioè che da soli falliscono, invece messi insieme, con l'aiuto di Gianfranco, del mio personaggio, riescono invece a trionfare. È bello, no? Che bel messaggio, originale. Io direi un messaggio veramente da priviti. La prossima dove la volessi fare? Un'eventuale prossima. Se ci fosse un'altra serie di Non ci resta che il crime. In quali anni ti piacerebbe? A me, guarda, piacerebbe perché sono poco trattati gli anni 90. Gli anni 90. Gli anni 90 perché sono un po' dispari, no? Sono un po' strani, sarebbe bello andare a capire. No, gli 80 sono pari però, gli 80 sono stati un po' presi in considerazione adesso. Eh, però, però. Con le troppe spalline, insomma. Però gli 80 sono strepitosi. Però gli 80 sono super trattati, anni 60, 70, 80 super trattati. Gli anni 90 sono un po' stati lasciati lì. Guardate che anche 50, 60 non è male, eh? Beh, io vado a 30 all'ora per trovare la bimba mia. Sì, sì, bella la città della tv e tante altre cose, no? Per un altro mondo. Ecco il batterista. Beh, io vedo anche, posso dire, un Giallini Robespierre. Rivoluzione francese, noi che arriviamo lì, tutti quanti, e ci sta, in quel momento tagliano le teste. E Giallini viene canturato per... Tagliamo la testa, oh no! Vero? E' fatta di cassa, lui ce l'ha capito? C'è anche un certo romanismo. Vogliamo andare a chiudere? Sì, io direi salutiamo perché... Ma perché salutiamo? Ma chi? Salutiamo, salutiamo. Ma chi? Ci sarà guardando qualcuno? No, ragazzi, è immontabile. Cosa? Questa roba che abbiamo detto. Ma che cazzo no? No, ragazzi, sì. Io penso che 30 secondi, 40 buoni... Ce l'abbiamo. E' intramontabile, non è male. Esatto. Diamo un appuntamento. Sì, allora. Dovete? Dovreste. 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 No, dovreste. Farci la cortesia, gentilmente. Nelle serate in cui non avete molto da fare. Da fare, no? Ma perché sempre quando si dice, sempre quando non avete da fare? Pure se avete da fare. Se avete da fare... Diciamo una cosa importante, porta male non vedere questa sera. Malissimo. Porta proprio male. Per il futuro. No, per il futuro. Porta fortuna vederla. Vederla. Ma poi diciamo, in tutto sono 300 minuti, 300 minuti della nostra vita dedicati a Giallini che dice a improperi, Tognazzi che è pignolo e vuole fare il restauratore, e Morelli che si bacia con le attrici sul set. Quindi, guardateci. Guardate. Guardateci. Guardate che roba. Guardate che roba. Guardate come siamo ridotti. Ne abbiamo bisogno. Guardate. 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 Grazie a tutti